Valentino già nel pieno della sua popolarità e del suo compimento, della sua realizzazione come campione, si infiamma per la brutale, fammela vedere, ci avviciniamo alla brutale, bella qua là, ma lui certo Tamburini che era quello che aveva disegnato è un genio, proprio la bellezza, finché arriva la fatidica domanda, me la fai provare? è notte, in via Feltre a Milano, con la nebbiettina e l'umidiccio per terra, lui non ha il casco perché è venuto in macchina, deve usare il mio, che è di una marca intanto, non di quella che usa lui se succede qualcosa, sono io che ti ho prestato la moto, è un MV, non è la Yamaha, che è la moto che usi tu, vabbè ma Dio Bambini, è notte, chi ci vede, non ti fidi? e come fai a dire a Rossi che non ti fidi di lui? Prende sta brutale, si mette il mio casco con dei guanti di lana enormi, forse addirittura le manopole e si perde nella notte milanese col motore che urla